Nole Djokovic alla caccia della sua quinta e Roger Scapa a Toronto e questo è lo scambio più bello del torneo. 28 secondi con il bosniaco Mizra Bajic. Oh, spettacolo! Poi Bajic schiaccia malamente lungo. Applausi del pubblico! E siamo al match point sul tie-break del secondo set. E finisce così 6-3, 7-6 per Djokovic che passa al secondo turno. Molto combattuta la sfida tra l'australiano Nick Chirgios e lo svizzero Stan Wawrinka che alla meglio rimonta in 3-7, 1-6, 7-5, 7-5. Wawrinka passa al secondo turno, qualificato anche Fabio Fognini che sfiderà il canadese Shapovalov fuori Marco Cecchinato. Grazie. 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 Grazie.